Eccoci qui, siamo al confine tra la Strassigna, Comune e Scandici, via Romania, viuzza interna industriale, zona industriale. Guardate che meraviglia di monnezzaio che è questo. Siamo esattamente al confine tra i due comuni, ovviamente non interessa né a Scandici né la Strassigna. E questo è il risultato, guardate che bellezza, panoramica, e questo è quanto.